Per qualcuno una linea è solo l'unione di una serie di punti, capace di collegare due estremi, ma a noi, fedeli alla nostra visione, questa definizione non basta. Una linea è un progetto, un'idea, un percorso. Una linea è una traccia da seguire, ma anche una nuova via da percorrere e da tramandare per chi verrà. Una linea capace di abbracciare, di entusiasmare, persino di far sognare. Per noi, popolo di viaggatori, una linea non definisce un confine, ma piuttosto la misura di quanto avanti ancora possiamo spingerci. La nostra linea ha il colore della passione e del cuore e disegna le forme di ciò che crea emozione. Un cordiale buonasera da Reggio Emilia. Non mi trovo al teatro Romolo Valli, bensì a poche centinaia di metri, in un luogo nel quale è stata scritta una pagina importante della storia d'Italia. Sono infatti all'interno della Sala del Tricolore nel municipio di Reggio Emilia. Ed è qui, proprio in questa stanza, che il 7 gennaio 1797 nato la maniera verde, bianco e rossa, che fu sulta dall'Italia Unita, quale Vesillo nazionale nel 1916. E proprio qui, più anche me, potete vedere primo stendardo tricolore mai realizzato. E ci è sembrato fondamentale dare in là in questo luogo così significativo al lancio della nostra nuova modoposto, nata a Maranelli. Passo dunque la linea al teatro Romolo Valli, signore e signori, bensì comodi e godetevi lo spettacolo. Direttamente, live, dal teatro Romolo Valli. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti 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 Wow Wow Grazie a tutti 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 Ferrari Grazie a tutti 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 Grazie a tutti